Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un altro pacco opening Pacco opening, tra virgolette, speciale Perché a quanto avevo visto su Twitter Oggi doveva essere il quinto, tra virgolette, compleanno di Foot Cinque anni da oggi, se non sbaglio, cinque anni che c'è la modalità Ultimate Team E quindi hanno fatto questi pacchetti qua Oro Premium Maxi Che attenzione, sono il doppio di un oro premium Però costano come un pacchetto oro di merda quelli che non trovi mai una sega Però prenderli con i crediti costano 5.000 Invece prenderli con i FIFA Points costano 300 Quindi conviene assolutamente prenderli con i crediti Direi Poi fa cagare sui palloncini Ma che cazzo I palloncini, guarda Che bug che si vede Che si vede dietro Che tristezza Si vede il retro del pacchetto Comunque abbiamo trovato la Nelka Bella merda E chi vu Ma che cazzo è Dunque se non sbaglio Questi dovrebbero essere Gli equivalenti dei pacchetti Quelli da 15.000 crediti Quindi Prendere un pacchetto da 15.000 crediti Pagarlo 5.000 Insomma non è male Direi che non è male Sette rari Diciamo che il mio pacchetto di questi qua Ho trovato Ronaldo Quindi Ritentiamo la fortuna Palla gira Palla gira Giro 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 Via Dai fuoco a tutto Dai fuoco a tutto Che velocità Questo fifa Dai dai Si è sentito un po' di casino Perché Sto registrando Sto tenendo in mano il microfono Con una mano Sto tenendo in mano il microfono Con una mano E con l'altra Uso il controller E fa casino Deci applicarsi a Dembele Guarda qualcosa Dembele Che cazzo Non vale a niente Bene Ibarbo Trova Ibarbo nei pacchetti Inutile Costa niente Ed è fortissimo Bancato di merda Ibarbo Siamo gli ultimi Dole pack Spena di trovare qualcuno di buono Non può andare a fanculo Anche il quinto compleanno Di Ultimate Team E fateci trovare Dici questo regalo a noi Questa volta Non è niente Vi regaliamo Vi regaliamo i soldi Bella merda Donovan Ma vaffanculo Ma vaffanculo Donovan Scarso Scarta tutto Bim bum bam Si è verificato un errore Avevo letto una cosa Certo che è bello Perché Ti costa 5.000 E scartando Ti vengono 4.000 Quindi è come se spendessi 1.000 1.000 crediti Per un pacchetto Figo Mi piace Oh finalmente Ho fatto qualcosa di buono Bene Ilicic Che conclusione Di pacchetto Spettacolo Ottimo Via E mi sa che li abbiamo finiti Finish Questo pacchetto Non è più disponibile Noi ne apriamo Uno Normale Sperando il Messi Sif E poi vi saluto Bella gente Belle fighe Vi saluto Dai schippiamo Sti cazzi Messi E Buono Quadrato E Oscar 46 Oscar Nel club Niente Dai vi saluto E Alla prossima Ciao ciao Alla prossima